Grande attesa per la mobilitazione di domani in piazza Mendola a sostegno dei lavoratori della Treofan di Battipaglia. La manifestazione comincerà alle 9.30 e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e sindacali che interverranno sul palco allestito per l'occasione. Una mobilitazione per far sentire la vicinanza di Battipaglia agli oltre 70 lavoratori dell'azienda a rischio dopo l'acquisizione da parte della Gindal. Il tutto in attesa della presentazione da parte della multinazionale indiana del piano industriale prevista per il 24 gennaio.